Abbiamo visto come il concetto di limite si è legato a quello di continuità. In questa lezione analizzeremo le interazioni tra queste nozioni allo scopo di determinare le principali proprietà delle funzioni continue e di classificare gli eventuali punti di discontinuità. Per cominciare però dobbiamo introdurre i concetti di estremo superiore ed estremo inferiore di un sottoinsieme di R. Se un insieme di numeri reali S è limitato superiormente, cioè se esiste un numero reale A tal che X è minore o uguale di A per ogni X appartenente a S, A si dice limitazione superiore per S, allora l'estremo superiore di S indicato con sub S è la minore tra tutte le sue limitazioni superiori e gode delle seguenti proprietà. X è minore o uguale di sub S per ogni AX appartenente a S perché sub S è una limitazione superiore per S. Inoltre, per ogni Epsilon maggiore di 0 esiste X appartenente a S tale che X è maggiore di sub S meno Epsilon, in quanto l'estremo superiore è la minore tra tutte le limitazioni superiori. Infatti, se esistesse un Epsilon maggiore di 0 tale che per ogni X appartenente a S X è minore o uguale di sub S meno Epsilon, allora sub S meno Epsilon sarebbe una limitazione superiore minore di sub S. Se invece S non è superiormente limitato, si dice che il suo estremo superiore è più infinito. Analogamente, l'estremo inferiore inf S di un insieme di numeri reali S è la maggiore tra tutte le limitazioni inferiori di S. Se S è inferiormente limitato, allora il numero reale inf S è tale che per ogni X appartenente a S X è maggiore o uguale di inf S e per ogni Epsilon maggiore di 0 esiste X appartenente a S tale che X è minore di inf S più Epsilon. Se invece S non è inferiormente limitato, allora il suo estremo inferiore è meno infinito. Nel caso in cui l'estremo superiore di S appartiene ad S, esso viene chiamato massimo di S e si scrive max S, mentre l'estremo inferiore di S si chiama minimo di S, min S, se appartiene ad S. Ogni sottoinsieme di R ha un estremo superiore e un estremo inferiore, ma non è detto che abbia massimo o minimo. Dato che le funzioni, nel caso che stiamo analizzando quelle reali di variabile reale, esprimono una relazione tra i valori di una variabile indipendente e i corrispondenti valori della variabile indipendente, uno dei primi aspetti da esaminare è la forma dell'insieme immagine contenente i valori della funzione. Per le funzioni continue è possibile rispondere a questa domanda in virtù del teorema di Weierstrass. Se una funzione è definita e continua in un intervallo chiuso e limitato AB, allora essa possiede il massimo, il quale è l'elemento massimo dell'insieme immagine F di AB, e il minimo, che corrisponde all'elemento minimo di F di AB. Un punto XM maiuscolo del dominio di F si dice punto di massimo assoluto se F di XM è uguale al massimo di F. Mentre un punto XM minuscolo del dominio di F si dice punto di minimo assoluto se F di XM è uguale al minimo di F. Il teorema di Weierstrass afferma dunque che ogni funzione è definita e continua in un intervallo chiuso e limitato ha almeno un punto di massimo assoluto e uno di minimo assoluto nel suo dominio. Ovviamente possono esserci più di un punto di massimo o di minimo assoluto. Per esempio, la restrizione all'intervallo meno 2π2π della funzione F di X uguale a sen X possiede due punti di massimo assoluto, cioè X uguale a pi greco mezzi e X uguale a meno 3 mezzi pi greco, e due punti di minimo assoluto, corrispondenti a X uguale a meno pi greco mezzi e a X uguale a 3 mezzi pi greco. Se restringiamo di meno il dominio della funzione sen X possiamo ottenere funzioni con una qualsiasi quantità di punti di massimo e di minimo assoluto. In effetti la funzione sen X ha nel suo dominio naturale R infiniti punti di massimo assoluto e infiniti punti di minimo assoluto, perché è periodica. Non tutte le funzioni definite e continuano in intervallo illimitato possiedono però massimo e minimo assoluto. Un esempio è la funzione F di X uguale a arco tangente di X, la quale è limitata superiormente e inferiormente ma non possiede tali tipi di punti. L'estremo superiore dell'insieme dei suoi valori è pi greco mezzi, l'estremo inferiore è meno pi greco mezzi, i quali corrispondono ai limiti della funzione per X che tende a più infinito e per X che tende a meno infinito. Un esempio più semplice è la funzione F di X uguale a X, ma a differenza della precedente questa funzione non è limitata né inferiormente né superiormente. La funzione F di X uguale a E alla X è invece limitata inferiormente ma non ha punti di minimo assoluto. Esistono ovviamente infiniti esempi, te ne mostro solo ancora uno per illustrare le diverse casistiche. Verifica per esercizio che la funzione è definita per casi da F di X uguale a E alla meno 1 su X alla seconda se X è diverso da 0 e 0 se X uguale a 0 è continua in R. L'unico punto interessante da studiare è X0 uguale a 0. Essa è limitata a un punto di minimo assoluto proprio X0 uguale a 0, ma non ha punti di massimo assoluto. Anche l'ipotesi che la funzione sia continua in tutto l'intervallo di definizione è necessaria perché per esempio la funzione F di X uguale a 1 fratto X se X è compreso 3-1 e 1 è diverso da 0 o 0 se X uguale a 0 è definita in intervallo chiuso o meno 1 o 1, ma non possiede punti di minimo e massimo assoluto, a causa del fatto che è limitata. La continuità in intervallo chiuso è una condizione sufficiente per la limitatezza, ma non è necessaria. Infatti esistono funzioni definite in intervallo chiuso e limitato che sono limitate anche se non sono continue. Possono avere massimi e minimi assoluti, come la funzione definita da F di X uguale a 2-2X se X è compreso 3-1 e 0 inclusi gli estremi è uguale a X più 3 se X è compreso 3-0 escluso e 1 incluso. Oppure possono non averne, come la funzione F di X uguale a valore assoluto di X fratto X per E alla meno X se X è compreso 3-1 e 1 escluso lo 0 e 0 se X uguale a 0. La dimostrazione del teorema di Weierstrass è piuttosto tecnica, quindi la ometto. Un secondo risultato importante è il teorema del valore intermedio, secondo il quale una funzione definita e continua in intervallo chiuso e limitato assume tutti i valori compresi tra il suo minimo e il suo massimo, che esistono per il teorema di Weierstrass. In virtù dei due teoremi possiamo concludere che una funzione continua trasforma intervalli chiusi e limitati contenuti nel suo dominio in intervalli chiusi e limitati contenuti nel suo insieme immagine. In particolare se il suo dominio è un intervallo chiuso e limitato anche l'insieme immagine lo è. Più in generale l'immagine di un qualsiasi intervallo, anche non chiuso o non limitato rispetto a una funzione continua, è ancora un intervallo. Il teorema del valore intermedio è equivalente al teorema di esistenza degli 0 o di Bolzano, secondo il quale se una funzione è definita e continua in un intervallo chiuso e limitato a b e ha valori discordi in a e b, cioè f di a per f di b è minore di 0, allora esiste un valore x interno all'intervallo a b tale che f di x è uguale a 0. Per dimostrare questo teorema supponiamo che f di a sia negativo e quindi f di b positivo. Si procede in modo analogo nel caso contrario. Supponiamo per assurdo che la funzione non si annulli nell'intervallo a b. Considerato un insieme s degli elementi x appartenenti a b tali che f di x è negativo essere un sottoinsieme limitato di r e quindi ha un estremo superiore a x0. Quanto vale f di x0? Per l'ipotesi assurda non può essere uguale a 0, ma se fosse negativo allora x0 sarebbe minore di b, perché f di b è positivo, così per il teorema di permanenza del segno la funzione risulterebbe negativa anche in un intorno destro di x0, contraddicendo il fatto che x0 è l'estremo superiore di s. Se invece f di x0 fosse positivo, allora sempre per il teorema di permanenza del segno esisterebbe un intorno di x0 nel quale la funzione sarebbe positiva, contraddicendo nuovamente le proprietà dell'estremo superiore. Una conseguenza importante di questo teorema è il fatto che ogni equazione a coefficienti reali di grado dispari ha sempre almeno una soluzione reale. Infatti l'equazione è del tipo p di x uguale a 0, dove p di x è un polinomio a coefficienti reali di grado dispari che per il secondo principio di equivalenza dell'equazione possiamo supporre ammonico, cioè con coefficiente del termine di grado maggiore uguale a 1. Dato che p di x corrisponde a una funzione polinomiale continua, che il limite per x che tende a più infinito di p di x è uguale a più infinito e che il limite per x che tende a meno infinito di p di x è uguale a meno infinito, esistono due numeri reali a e b con a minore di b tali che p di a è minore di 0 e p di b è maggiore di 0. Per il teorema di esistenza degli zeri esiste un numero x0 compreso tra a e b tale che p di x0 è uguale a 0. x0 è una soluzione dell'equazione. Anche per questi ultimi due teoremi le ipotesi relative alla continuità e all'intervallo di definizione sono importanti. Per esercizio trova degli esempi nei quali una delle ipotesi del teorema di esistenza degli zeri non è soddisfatta e la funzione non si annulla. Naturalmente l'uso dei tre teoremi che ti ho presentato può essere steso anche al caso di funzioni continue in un intervallo aperto o illimitato oppure nell'unione di più intervalli di qualsiasi tipo. Basta applicare un intervallo chiuso e limitato contenuto nel loro dominio. Un esempio concreto è il seguente. Dimostrare che l'equazione x alla terza meno 3x più 1 uguale a 0 ha tre soluzioni reali. Già sappiamo che ne ha una. Come facciamo a mostrare che ce ne sono altre due? Estendiamo il procedimento usato nel caso generale. Per x uguale a 1 il polinomio p di x uguale a x alla terza meno 3x più 1 è uguale a meno 1. Mentre per x uguale a 2 esso vale 3. Per il teorema di esistenza degli zeri applicato alla funzione continua definita nell'intervallo chiuso e limitato 1, 2 da f di x uguale a p di x esiste un numero reale x1 compreso tra 1 e 2 tale che f di x1 è uguale a 0. Questa è una prima soluzione che vale circa 1,5321. Si tratta in realtà di un numero irrazionale. Per x uguale a 0 p di x è uguale a 1. Quindi applicando lo stesso teorema alla funzione definita da p di x nell'intervallo 0, 1 si ottiene una seconda soluzione x2 circa uguale a 0,3473. Infine per x uguale a meno 2 p di x uguale a meno 1. Così una terza soluzione compresa tra meno 2 e 0 vale circa meno 1,8794. Il metodo che ti ho appena descritto serve per individuare degli intervalli entro i quali si trovano le soluzioni, ma può essere raffinato per determinare delle approssimazioni con la precisione voluta. Ti spiegherò questo e altro nel corso sul metodo di numerici. Dopo aver visto cosa succede per le funzioni continue, esaminiamo i punti di discontinuità di una funzione. Ricorda che una funzione è sempre continua in un punto isolato del suo dominio, mentre continua in un punto x0 di accumulazione per il suo dominio se è definita in x0 e limite per x che tende a x0 di f di x uguale a f di x0. Il problema della discontinuità riguarda quindi i punti di accumulazione del dominio. Tecnicamente bisogna distinguere i casi in cui il punto x0 di accumulazione per il dominio d della funzione f appartiene o meno a d. Dato che una funzione può essere continua solo nei punti del suo dominio, le eventuali discontinuità devono essere elementi x0 del dominio dove non è valida la relazione. Limite per x che tende a x0 di f di x uguale a f di x0. Invece se x0 non appartiene a d ma è un suo punto di accumulazione allora si dice che essa è una singolarità della funzione. Questa distinzione è però molto debole. Se x0 è un punto singolare di f si potrebbe definire una nuova funzione f tilde estendendo a f mediante f tilde di x uguale a f di x se x appartiene al dominio d uguale a 0 se x uguale a x0. Per f tilde x0 diventa un punto di discontinuità nel caso in cui ovviamente il limite per x che tende a x0 di f di x sia diverso da 0. Ovviamente f tilde è una funzione diversa da f perché ha un dominio diverso quindi la distinzione dei due concetti ha comunque senso. Sulla base del motivo per cui l'uguaglianza limite per x che tende a x0 di f di x uguale a f di x0 non vale è possibile classificare i punti di discontinuità e questa classificazione può essere stesa anche i punti di singolarità. È necessario fare ancora una distinzione sulla base del fatto che f di x sia definita in un torno completo di x0 o solo a destra o a sinistra di esso. Cominciamo col primo caso e poi esaminiamo il secondo. Dato che f di x0 esiste l'uguaglianza corrispondente alla continuità può non essere vera per due motivi. O non esiste il limite per x che tende a x0 di f di x oppure questo limite non è uguale a f di x0. Se i limiti sinistro e destro per x che tende a x0 esistono e sono numeri reali il primo uguale a l meno e il secondo uguale a l più potrebbe capitare che siano diversi. Così il limite della funzione per x che tende a x0 non esiste. In questo caso appunto viene detto discontinuità di prima specie o discontinuità di salto e la differenza l più meno l meno è il salto della funzione nel punto di discontinuità. Per esempio la funzione f di x uguale al valore assoluto di x fratto x se x è diverso da 0 e 0 se x uguale a 0 ha limite per x che tende a 0 da destra uguale a 1 che è l più e limite per x che tende a 0 da sinistra uguale a meno 1 che è l meno. Così x uguale a 0 è un punto di discontinuità di prima specie e il suo salto è uguale a l più meno l meno uguale a 2. La funzione definita da f di x uguale a x più a se x è minore uguale a 0, b meno x e x è maggiore di 0 ha un punto di discontinuità di salto in x uguale a 0 se a è diverso da b e il salto è uguale a b meno a. Mentre se a è uguale a b la funzione è continua in x0. Potrebbe poi capitare che almeno uno dei due limiti destro o sinistro sia infinito o non esista. In questo caso si parla di discontinuità di seconda specie o essenziale. Un esempio è la funzione f di x uguale a 1 fratto x. Il limite per x che tende a 0 da destra di f di x è uguale a più infinito mentre il limite per x che tende a 0 da sinistra di f di x è uguale a 0. Il terzo caso è quello della discontinuità di terza specie in cui il limite per x che tende a x0 di f di x esiste è un numero reale ma è diverso da f di x0. Questo tipo di discontinuità si dice anche eliminabile perché è possibile definire una nuova funzione f tilde mediante f tilde di x uguale a f di x se x appartiene al dominio meno x0. È uguale al limite per x che tende a x0 di f di x se x è uguale a x0. E questa è continua in x0 ed è uguale a f negli altri punti del dominio d. Faccio un esempio significativo nel caso dei punti di singolarità anziché di discontinuità. La funzione f di x uguale a sinistra di x fratto x è definita e continua in r meno lo 0 e il limite per x che tende a 0 di sinistra di x fratto x è uguale a 1. Quindi può essere stesa una funzione f tilde continua su tutto r definendo f tilde di x uguale a sinistra di x se x è diverso da 0 è uguale a 1 se x uguale a 0. x uguale a 0 è un punto di singolarità eliminabile. Nel caso in cui f sia definita oltre che in x0 in un suo intorno destro o sinistro si possono presentare solo due dei tre casi precedenti in quanto non ha senso parlare di limite sinistro o destro rispettivamente e quindi non ha senso parlare di salto. Se il limite per x che tende a x0 da destro o da sinistra di f di x è infinito o non esiste la situazione è analoga a quella della discontinuità essenziale. Mentre se il limite per x che tende a x0 da destra o da sinistra di f di x è un numero reale allora la situazione ricalca quella della discontinuità eliminabile per cui in questi due casi adotteremo quella nomenclatura. Per esempio la funzione f di x uguale a radice di 1 meno cos x fratto x è definita in un intorno destro di x0 uguale a 0 e il limite per x che tende a 0 da destra di f di x uguale a 0. Quindi essa ha un punto di singolarità eliminabile o di terza specie in x0. E definendo f tilde di x uguale a f di x se x appartiene al dominio di f 0 se x uguale a 0 si ottiene una funzione non più singolare e continua a destra in x0. Mentre la funzione f di x uguale a logaritmo naturale di x ha un punto di singolarità essenziale in x0 uguale a 0. Ti ho già fatto osservare in un'altra lezione che in virtù delle proprietà algebriche dei limiti le funzioni ottenute a partire dalla funzione alimentare per mezzo di operazioni algebriche sono continue nel loro dominio. Quindi nel loro studio deve preoccuparti unicamente di stabilire il tipo di singolarità presente nel bordo del loro dominio, cioè nei suoi punti di accumulazione che non appartengono ad esso. La continuità o l'eventuale discontinuità deve essere analizzata invece negli estremi degli intervalli di definizione di una funzione definita per casi. Per esempio la funzione f di x uguale a 1 fratto x più 1 se x è minore o uguale a 0 e alla x se x è maggiore di 0 ha per dominio r meno meno 1 e quindi x uguale a meno 1 è un punto di singolarità di tipo essenziale perché il limite per x che tende a meno 1 dal sinistro di f di x uguale a meno infinito e il limite per x che tende a meno 1 da destra di f di x uguale a più infinito. In tutti i punti del dominio ad eccezione al più di x uguale a 0 la funzione è continua. Rimane da discutere x uguale a 0. Dato che il limite per x che tende a 0 da sinistra di f di x è uguale a 1 che è uguale anche al limite per x che tende a 0 da destra di f di x ed è uguale anche a f di 0 la funzione è continua in tutto il suo dominio e non presenta punti di discontinuità. Grazie a tutti.